Una segnalazione giunta da parte di una iscritta ad un'importante associazione di categoria datoriale per denunciare un'inconsueta telefonata in cui l'interlocutore si è falsamente qualificato come addetto alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo per carpire informazioni e dati sensibili. Secondo quanto riferito nella telefonata sono state fornite false comunicazioni riguardo la posizione contributiva dell'iscritto all'ente camerale per ottenere informazioni riguardanti i conti correnti e ulteriori dati della società. La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha immediatamente avviato un accertamento interno e ha consentito di appurare l'anomalia e l'infondatezza delle comunicazioni riferite nel corso dell'interlocuzione telefonica riguardante il duplice pagamento del diritto annuale e la richiesta di informazioni bancarie per procedere ad un presunto rimborso. Si raccomanda pertanto a tutti gli iscritti la massima prudenza e attenzione. Chiediamo di segnalare ogni episodio che risulti difforme dalle normali procedure di comunicazione dell'ente per evitare possibili tentativi di truffa. Resta inteso che ogni episodio sarà trasmesso per conoscenza alle competenti autorità giudisiarie. Grazie a tutti.